Grazie Grazie Il dirigente gli ha detto tu non giocherai mai più scommettiamo purtroppo ma il nome di Taranaro si però se non riesce a darla dentro che cazzo di sbracciate lei l'ha colpita male ma non si era fruttata e poi guarda una spalla non l'avevo visto cioè non sta giocando Terez no deve essere uno di quelli scazzolati dopo la partita contro Terez che è quello che buona però se lo metteva in fascia era meglio l'esecuzione non era bellissima io non l'avevo messa con la forza giusta no guarda no guarda e le marcature oh lui il miracolo l'ha fatto però fuori gioco fuori gioco oddio che culo mamma sto a tira oh mostruoso comunque comunque è sempre libero percorso non 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 ti ha ti dirà no era giusto darla di là però non gliela data benissima bravo ok torna Zemaili, Napoli in vantaggio a Sassuolo. Potessimo aspettarti qualcosa di diverso. Vai Tony, il solito numero che ha fatto sotto il difensore gli ha lasciato il mezzo metro. Per fortuna mia, se no giocavo con due attaccanti solo. Giocarei 4-4-2. Io gioco con il 3-4-3, anch'io. Mi viene davanti, ma è c'era niente. Ma dai. Per il Presidente. Bello questo. Sì. Sto zoomando. Ci poteva, era abbastanza lì. Non ho guardato. Sono difficile. No, io avevo guardato prima. Io avevo guardato prima. E era proprio lì. Mamma mia, come l'ha messa. Mamma mia. Che gol, ragazzi. Sì. Grazie. Ma sì, ma vai a casa. Che cazzo, no? Per i camionni. Comunque dopo 4 minuti di recupero potremmo interrompere su 3-0, eh? Sì, è un sacchista. Sì. 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 Sì.